Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, come di consueto inizia il mister. Allora, lo bont out, perché ieri in allenamento ha subito una botta al gomito destro. Gionberg rientra in gruppo, Digneo che è in gruppo, e Pjanic va un po' valutato oggi, però la valutazione la facciamo nel gruppo, sia Pjanic che Digne ieri hanno fatto a parte, come sapete probabilmente. Poi per quanto riguarda il resto, tutti a disposizione. Pjanic è un problemino, un piccolo affaticamento agli adduttori, adduttori pube. Ieri le sensazioni sono state buone, oggi riva valutato dentro il gruppo. Poi c'è l'allenamento naturalmente di oggi, e anche il risveglio di domattina. Iniziamo la conferenza stampa, Calicchia, Roma TV. Eccomi mister. Sì. Come si spiega i due pareggi consecutivi con Bologna-Atalanta, e soprattutto se ritiene che possa esserci stato un calo di concentrazione, un rilassamento post-rimonta, che comunque toglie energie? Ma io me li spiego che a volte dei momenti dove le cose non girano per il verso giusto possono succedere. È chiaro che la nostra squadra bisogna che abbia delle ricerche continue, che è quella di gestire la partita, di fare la partita. Perché nella lotta, nel duello, perdiamo un po' di nostre qualità, perdiamo un po' di quelle che sono le nostre caratteristiche, in base alle scelte che io ho un po' fatto ultimamente. E per cui poi ci vorrebbe il premio quando fai le cose fatte bene, fai girare palla come è successo poi contro il Bologna, quando ti crei delle situazioni importanti. È chiaro che se non riesci poi a far gol, gli altri si chiudono, diventa probabilmente una partita un pochettino più muscolare, un pochettino più fisica e in questo perdiamo qualcosa. Qui stavo parlando della partita di Bologna. Quella dell'Atalanta avevo fatto un ragionamento diverso, avevo fatto un ragionamento di mettere la squadra, la scelta è stata quella di un po' più fisica, perché anche il Bologna è una squadra forte sulle palline attive, però l'Atalanta ancora di più sa sfruttare poi la fisicità, sa andare poi su quelle che sono riconquista di palle di nessuno. C'è la palla di possesso, c'è il momento che hai la palla, il momento che non ce l'hai, c'è il momento che non ce l'ha nessuno, cioè di portare a casa quelle situazioni incerte. Loro sono bravi a far questo, soprattutto davanti al loro pubblico. E poi hanno anche ripartenza e contropiede. In quello dovevamo stare probabilmente più attenti. Abbiamo fatto dei ragionamenti diversi nelle due partite. non siamo riusciti a sfruttare fino in fondo nessuno dei due ragionamenti che abbiamo fatto. Però la squadra ha fatto delle buone cose. Ha fatto delle buone cose contro il Bologna, ha fatto delle buone cose a Bergamo. Mi aspettavo un po' più di esperienza dopo il 2-0, che riuscisse a gestire un po' meglio la partita, perché avevo fatto questa scelta qui, che fosse più esperta poi nell'attenzione al momento che si perde palla. Invece poi i fatti, il risultato, non mi hanno dato ragione. Però non penso che ci siano poi delle scorie che ci portiamo nella prossima partita. Le partite sono state fatte tutte e due bene. Ci sono dei momenti che sono criticabili di queste due partite, ma dei momenti che sono anche esaltabili. Tipo, per esempio, di aver quasi vinto la partita, di averla ribaltata un'altra volta, la partita di Bergamo, perché siamo andati su tre pari e ci è capitata anche la palla del 4-3. Quella è stata una bella reazione. Paesano, Roma Radio. Volevo sapere se invece dal punto di vista fisico ha visto la squadra un po' in difficoltà durante o dopo la partita con l'Atalanta e che tipo di partita si aspetta contro il Torino? No, dal punto di vista fisico non l'ho vista in difficoltà. L'ho vista in difficoltà da un punto di vista di equilibri contro l'Atalanta. E contro il Torino, se non saremo più bravi, corriamo il rischio di avere le stesse difficoltà, perché il Torino è un'altra squadra molto attenta, che sa compattarsi bene in fase difensiva e che sa ripartire benissimo e che riconosce poi la palla giocata in verticale su queste due punte. movimenti a memoria delle due punte davanti, perché io Ventura lo conosco bene, Ventura è un maestro di calcio, oltre a essere una persona eccezionale. lui sa dare l'impronta di quello che è il suo stile, il suo modo di lavorare alle sue squadre. Il fatto che sia stato in un grandissimo club come il Toro, come il Torino, è un segno che evidenzia che lui sa lavorare, sa convincere tutti, poi con il lavoro sul campo. Ecco, e noi a questa partita lì dobbiamo fare attenzione, soprattutto a quelle cose che abbiamo detto. E se ci riusciamo, è chiaro che possiamo vincerla, però dobbiamo essere bravi. Angelo Mangiante, Sky Sport. Chiedo questo. Può essere un motivo di distrazione, di disturbo, questa vicenda Spalletti-Totti, o può essere trasformato in qualcosa di positivo? I motivi di distrazione sono quelli che succedono dentro gli spogliatoi con una forza tale che distraggono. Questo non è così. O quelli che succedono fuori, non soltanto dentro gli spogliatoi. Da un punto di vista nostro è tutto a posto e noi lavoriamo in funzione del Torino, non parliamo più di quello che è stato parlato in questi due giorni. Già da quando ci siamo rincontrati ieri abbiamo messo a fuoco tutto quello che era venuto fuori. È chiaro che io poi debbo intervenire su quelle che sono le regole, su quello che è la moderazione che debbo usare per quanto riguarda i messaggi forti che vengono poi dati verso la squadra. però è tutto a posto. Balzani, leggo. Buongiorno mister. Stavo vedendo i numeri di Keita. Con la Roma Keita ha guadagnato 25 punti su 27 a disposizione senza Keita 9 su 16 e quindi ha vinto solamente se non erro contro il Carpi. Allora le chiedo, come me è rimasto in panchina contro Bologna e Atalanta e se a questo punto non diventa anche difficile sostituirlo che dal prossimo anno per caratteristiche e per esperienza un giocatore così, qualora non dovesse rinnovare chiaramente? E questo devo riprendere quello che ho detto poi come risposta a Mangiante perché io debbo moderare quelli che sono poi i messaggi che vengono mandati verso la squadra cioè tu vorresti dire che Keita ci ha fatto fare quei punti e che quegli altri non contano con Keita gli altri rendono di più no, non è vero una squadra non dipende non dipende da un giocatore quelli che sono risultati della squadra non dipendono da un giocatore qui mi posso rifare anche a quello che è venuto fuori di Totti dopo il terzo gol di quello che io volevo dire poi quando mi viene posta il messaggio che deve assorbire la squadra che il pareggio l'ha fatto Totti o che la Roma è questo o Keita perché se no se non gioca Keita la Roma non avrebbe fatto risultato questo io lo devo moderare perché non è corretto non è giusto ci sono altri giocatori che fanno contrasti che sanno giocare la palla come sei due nel caso del gol di Francesco di Totti il terzo gol c'è una giocata di Geco c'è una giocata eccezionale di Perotti ci sono due contrasti a spezzagambe di Escharavi e di Emerson c'è una palla riconquistata di Florenzi in scivolata e messa lì per essere calciata e poi c'è il grandissimo gol di Totti però ci sono anche queste altre cose perché levare i meriti della giocata di Perotti su quel gol lì e dire che dipende solo da una cosa non è corretto è un voler distorgere quella che è la cosa che è successa è voler spostare quelli che sono dei meriti a uno o a un altro e questo io non lo accetto e sono attento anche a questo Pincilla Repubblica io stavo un pochino ripercorrendo gli ultimi due mesi stavo pensando quando la squadra è iniziata a funzionare abbiamo letto anzi ho ascoltato l'intervista di Totti a Rai 1 quando la squadra era forse nel momento migliore parlo della prima della partita con l'Inter veniva da otto vittorie di fila abbiamo ascoltato l'intervista di Sabatini in cui di fatto diceva che se ne sarebbe andato a fine stagione domenica a Bergamo possiamo dire che un pochino tutti vi siete fatti prendere un pochino dal nervosismo credo si possa usare la parola nervosismo volevo chiedervi ma la Roma soffre un pochino di una crisi di autolesionismo? sono cose che possono succedere quelle di ogni tanto poi dover intervenire e dire qualcosa e sono tutte sono tutte persone importanti e tutti credono di dirle poi in funzione di una crescita di un mettere a posto di un dare poi anche un messaggio per cui poi naturalmente nell'intervenire si commettono degli errori si fanno delle scelte sbagliate per obiettivo per tempistica però poi le intenzioni sono sempre di far bene il giorno dopo ci si accorge con più facilità quando c'è meno nervosismo mi sembra tu abbia usato questo meno tensione giustamente come tu dici e da persone che vogliono poi raggiungere o perseguire il solco che è stato tracciato dove dentro ci sono le regole ci sono i principi ci sono gli obiettivi tutti insieme là verso la vittoria della Roma perché quello è l'obiettivo finale che debbono avere tutti Menghi il tempo Buongiorno in questi giorni si sta parlando solo di Totti ma lei dopo la partita ha detto che si disperdono attenzioni verso la squadra e verso la famiglia a cosa e a chi ha fatto riferimento? No Io si sta parlando solo di Totti perché è uno che ha fatto che ha fatto la storia uno di quelli ha fatto la storia della Roma per cui anche giustamente io tento come ho già detto in precedenza di trovare altri 4-5 Totti perché mi ci vogliono mi ci vogliono per avere una squadra sempre più forte di trovarli o di crescere o di far crescere altri 4-5 giocatori di questo livello qui quando mi chiedi a chi mi riferisco è un discorso che riguarda noi dentro lo spogliatoio e dentro lo spogliatoio dico a chi mi riferisco a cosa che nella testa bisogna avere solo poche cose perché se no sono sempre 24 ore di giorno io ho provato a fare due ore di straordinario ma non sono andato a 26 sono rimasto a 24 e nelle 24 ore tu ne devi dormire 7-8 tu ne devi usare 3 o 4 per l'allenamento tu devi avere il recupero dopo l'allenamento e avere gli obiettivi tu hai tante attenzioni poi è chiaro che le fette diventano più più strette e c'è bisogno di tanta attenzione perché per esempio se io riguardo il primo gol che abbiamo preso a Bergamo è quello che ci frega siamo un attimino disattenti in alcuni momenti ecco e allora richiamo la squadra perché quello fa parte del mio lavoro mi hanno chiamato qui apposta mi hanno chiamato per far rispettare delle regole per far rispettare dei principi per andare poi a cercare di vincere tutte le partite tutte non le abbiamo vinte ma qualcuna si e si tenta di andare avanti in questa maniera qui capito anche se ora in base a quello che leggo sembra che si sia sbandato totalmente e invece abbiamo sempre il volano della macchina dell'automobile in mano Val di Serri il Corriere della Sera Buongiorno lei ha detto arrivato a Roma che Roma era un posto eccezionale per lavorare che non bisognava farsi alibi secondo lei è ancora un posto eccezionale oppure un posto dove è diventato difficile penso a quello che ha detto su Totti e Geco che Geco rende di meno perché c'è un ambiente che lo mette sempre in contraposizione a Totti no no io non ho parlato di ambiente io dico che c'è qualcuno che lo mette in contraposizione perché basta basta vedere è lì sotto gli occhi di tutti l'ambiente per me rimane uguale del Roma way uguale l'ambiente eccezionale per lavorare guarda dove sembrava che fosse tutta l'aria a vedere quello che ho letto e quante volte mi ha telefonato Gianni poi dopo la partita io che ho fatto il giorno dopo ho preso mi sono alzato un'ora prima e sono venuto un'ora prima a lavorare perché mi ritrovo bene a stare nel mio ambiente per cui sono venuto prima a lavorare e ho tentato di organizzare meglio perché se è venuto fuori quello lì è segno che devo fare qualche cosa di più è segno che è colpa anche mia devo organizzare meglio quello che questo ambiente eccezionale mi mette a disposizione Cecchini la gazzetta dello sport buongiorno vorrei chiederle questo mi ricollego al suo discorso che trovo condivisibile sul discorso di squadra che prescinde un po' dagli individualismi premesso che come sintesi giornalistica qualche volta Totti salva la Roma è una cosa è una sintesi giornalistica mi dicono mi hanno detto non ho avuto il tempo di controllare che persino il sito della Roma ha scritto Totti salva la Roma quindi è una sintesi giornalistica che qualche volta può aiutare posso intervenire di volta in volta facciamogli a lei come vuole come è stato scritto Totti salva la Roma perfetto è diverso che Totti è la Roma la Roma è la Roma è molto diverso Totti salva la Roma sono d'accordo perché ci ha messo se magari nel salvataggio ci si mettono quei tre contrasti stronca gambe che hanno fatto tre altri giocatori della Roma siamo perfetti faccio anche io se mi permetti una brevissima precisazione che una riga in un pezzo che parla di statistica leggere poi sui siti la Roma smentisce Spalletti diciamo che è una no lo so sto approfittando di quanto tu ti hai detto per fare una precisazione non è affatto la gara che volevano distogliere da cittardo alta a cittardo basso io sono maestro sulla storia del Boccaccio mi può chiedere di tutto se vuole di fare De Camerone lo so cominciamo una fiammetta e ne avanti terreno facile la cosa che volevo chiedere è questo essendo ormai un cronista anziano dal 2005 al 2009 nella precedente era tra l'altro straordinaria tante volte si erano viste sintesi giornalistiche di Totti salva la Roma Totti trascina la Roma Totti il faro della Roma eccetera eccetera e tante puntualizzazioni sulla eccessiva personalizzazione noi non ce le ricordiamo questo cambio di rotta è perché è cambiato lei siamo cambiati noi ha fatto esperienze e si è visto che è meglio in questo modo perché in fondo anche in quella Roma facevano contrasti spezza gambe De Rossi piuttosto che Taddei piuttosto che Pizzarro e varie umanità ma ho capito ma un po' quello che ho detto prima io devo riuscire a trovare altri Totti perché Totti non è più quello lì è un po' cambiato sotto l'aspetto della gestione della partita totale è un po' differente per cui io ho necessità di trovare altri calciatori forti come lui e nel riuscire a trovare altri calciatori forti come lui devo moderare questi messaggi che vengono mandati alla squadra perché è giusto così è giusto che vengano dati meriti anche al resto della squadra è stato scritto di Totti ugualmente anche in quelle dieci partite dove ne abbiamo 28 9 non lo so e lui non ha giocato eppure si scrive ugualmente di lui scriviamo anche di qualche di un altro che è forte che quando viene in mente sono contrapposizione quella che è la sua forza da quello che può essere il momento di Dzeko e mi dispiace ma io intervengo intervengo perché Totti è forte a prescindere non c'è bisogno di mettere Dzeko che deve giocare al suo posto e che Dzeko deve andare via per cui io faccio l'allenatore devo far rispettare delle regole devo guardare quello che succede dentro gli spogliatoi quello che viene detto quello che viene preso come principio come obiettivo e a volte se si pigliano degli obiettivi sbagliati devo intervenire e dire quelle che sono le cose corrette e che le cose sono giuste lei mi può dire se io ho detto delle cose che non stanno in piedi ora facendo questo discorso qui cioè nel gol di Totti a Bergamo oltre secondo me è più bella la palla che ha giocato dopo perché è quella dei suoi palloni che la squadra ce l'ha come idea però lui la gioca subito nel momento che gioca gli altri la giocano di meno perché non citare la grandissima giocata ha fatto una giocata a Perrotti eccezionale quella vale tantissimo in quell'azione lì e noi di Perrotti ne abbiamo bisogno perché Perrotti è un giocatore forte e Francesco probabilmente l'ho fatto giocare poco probabilmente ma io lo tengo in considerazione e lo tengo in considerazione nei momenti importanti perché se no non l'avrei fatto giocare quando la squadra ha bisogno scusi io l'ho fatto giocare quando la squadra aveva bisogno della sua qualità della sua classe secondo me è stato messo in condizione di usare la sua qualità e la sua classe secondo me in questo caso ho scelto momenti giusti sarebbe stato più brutto probabilmente sarebbe stato anche più attaccabile avessi messo dopo un risultato di 3 a 0 non è più brutto non è una valutazione che nasce spontanea anche per quanto riguarda proprio l'integrità del giocatore la moralità del giocatore io lo uso dove c'ho da ribaltare una partita e lui per poco non ci è riuscito e sarei andato a montargli in testa a fine partita ma secondo lei non c'è il rischio di una personalizzazione all'incontrario come Totti salva la Roma è una personalizzazione trionfalistica un abbassamento di tono eccessivo non è anche una personalizzazione si vede dal tempo che dedica a questa questione che lei sembra abbia degli interessi in questa causa sembra che abbia degli interessi a voler parlare sempre di questa cosa qui io dico che c'è un capitano e che c'è una squadra il capitano è Totti e poi c'è una squadra io ho gli interessi della squadra io guardo la squadra io quando vado a fare la formazione e glielo ripeto ma vedo che viene dimenticato non ho né padre né madre né figli né parenti solo un obiettivo la vittoria della Roma che lei può criticare dopo se non la raggiungo perché è giusto così e può criticare le scelte che faccio ma io le faccio solo per questo e se si va a analizzare quello che ho fatto fino a questo momento qui è quello e la squadra molte di queste partite le ha vinte anche senza di Totti per cui hanno un valore anche gli altri calciatori e io lo debbo tenere presente e per me è un messaggio da dare alla squadra mi dispiace per Francesco se la interpreta diversamente ma un problema suo se la interpreta diversamente non è un problema nostro è mio perché io dico delle cose sane delle cose giuste che direbbe qualsiasi allenatore che pensa qualsiasi allenatore perché come in questa settimana c'erano quelli di Coverciano gli allenatori di prima si fanno discorsi e i discorsi sono quelli che l'allenatore quando va in campo è senza anima sceglie la formazione punto e basta per far cosa per vincere punto e basta e se voi mi dite sempre che io non lo faccio giocare e che deve giocare lui se la squadra ha vinto ha vinto cioè quello è l'obiettivo abbiamo vinto per cui bravi agli altri calciatori ci dispiace e mi dispiace per tutti perché lo vedo che vorrebbe giocare lo vedo che si sta allenando anche bene però poi devo scegliere e fino a che ci sono io si fa così perché regole principi obiettivi fino a un fondo per la vittoria della Roma scelti oltre che regole principi obiettivi scelte per la vittoria della Roma e quando ho bisogno io Francesco lo faccio giocare e sono contento se lui mi ribalta la squadra mi ribalta il risultato insieme alla squadra molto contento l'ho messo per questo Dubaldo Corriere dello Sport sì ciao volevo chiederti questo da quando sei arrivato hai sempre detto resto se ho la possibilità di competere per lo scudetto poi adesso siamo arrivati quasi a fine aprile e si fanno programmi si studiano strategie per il futuro hai mandato a vedere il ritiro so che non ti piace l'albergo rispetto a quello dell'anno scorso dovresti cambiarlo si studiano tournee amichevoli eccetera per cui significa che no no finisco finisco bisogna risciai il topo un'altra volta aspetta posso finire no no perché ti spiego ti spiego a vedere il ritiro c'è andato Marco Domenichini dopo la partita Marco io stamani avevo da fare una cosa in tutte le maniere con mia figlia e sono rimasto un po' di più a casa stamani perché avevo conferenza alle tre sono arrivato all'undici o qualcosa del genere sono arrivato qui e lui non c'era era a vedere delle cose è arrivato ora prima della conferenza mi fa Luciano no guarda fermo ora c'ho conferenza non mi dire niente dopo dopo la conferenza vieni si parla di ogni cosa e e tu mi dici che io gli ho detto allora topo e Marco Domenichini perché non c'è verso è lui ora lo becco e lo spiaccio c'è un candidato sindaco consentimi la battuta che prevede se passerà se diventerà sindaco che di portare una colonia di 500.000 gatti asiatici per sconfiggere i topi forse ce ne sarà bisogno pure qualcuno o quattro può darsi in nostro caso sì mi sembra ma comunque a parte scherzi torniamo a serie allora insomma comunque siamo arrivati ad aprile albergo non albergo ritiro a noi ritiro comunque si sta lavorando puoi sciogliere pubblicamente questa riserva che avevi posto quando sei arrivato e poi permettimi solo una digressione ancora sulla partita di domenica tu poco fa hai detto sul primo gol c'è stata qualche disattenzione ma non ritieni che lì Digne non ci sia arrivato perché stava male e non ha fatto in tempo proprio fisicamente andare a chiudere su D'Alessandro poi il cambio c'è stato subito dopo ma Digne l'hai detto tu io non volevo dire Digne la disattenzione è questa che c'è Manolas che entra con la guida della palla si dice entra vai a cercare un avversario De Rossi è nella sua posizione e Manolas gli entra sul fianco destro cioè va a forzare l'azione Rudiger è oltre il suo avversario come linea di perdita di palla cioè è oltre tre o quattro metri il suo avversario Digne è oltre il suo avversario di tre o quattro metri cioè loro facevano la marcatura ma da copertura cioè copro il passaggio lo marco ma coprendo il passaggio non facevano la marcatura e basta cioè che gli è di dietro loro lo marcavano davanti lasciandolo un po' alle spalle sull'esterno in quel momento lì Manolas fa il passaggio e si perde palla ci sono Digne e Rudiger che sono tutte e due insieme oltre i loro avversari come linea ma soprattutto quando entra Manolas c'è Zucanovic che si apre anche lui per ricevere palla e c'è un momento che rimane l'attaccante suo Borriello dietro a Manolas che porta palla De Rossi che è lì per fare il vertice il regista della squadra Zucanovic che va di là per entrare e per andare a puntare l'avversario uguale se ricevesse palla e i due tersini sono davanti gli esterni sono davanti Gomez e D'Alessandro è una cosa che la mia squadra non può fare e oggi si guarda proprio questo qui per cui lo so a mente per questo io non ho detto Digne Digne poi che fanno poi quando c'è la perdita di palla c'è un attimo che si tenta di rimettersi a posto che però ci rimane scoperto un fianco ci rimane scoperto un fianco e non possiamo ridare equilibrio scivolando con la linea difensiva perché eravamo tutti protesi ad andare dove si va si sta 2-0 per noi cioè quello è un equilibrio che va mantenuto dei giocatori esperti la debbono saper leggere poi Digne riparte e nel recuperare la posizione perché lui la recupera la posizione la fa riconquistata la palla per un paio di volte la fa riconquistata nostra e rallenta un paio di volte poi quando deve fare lo scatto con D'Alessandro dopo aver rallentato e che probabilmente sia stato anche per la botta presa ma dove invece mantiene la forza della corsa che ha la qualità della corsa che ha esprime la sua totalità soltanto in questi due momenti laggiù la palla non si recupera come si immaginavano perché c'è due momenti dove si può anche recuperare e ci trovano quello spiraglio e ci fanno un gol che noi non dobbiamo assolutamente prendere che non possiamo prendere ma io non do la colpa a lui dico che è una disattenzione proprio è il momento che porta palla a Manolas che è un modo sbagliato di ragionare che quell'altro va a farsi vedere tutte e due si va oltre la linea dei due attaccanti esterni sul 2 a 0 per noi dobbiamo sempre mantenere un equilibrio perché quello è il momento peggio della partita quando c'è il cambio di possesso è il peggior momento tattico della partita cioè che tutti si aprono per giocare palla riconquistata verticalizzata c'è l'inversione a dover ricomporre la squadra a dover fare una cosa che non eri in quel momento lì pronto con la testa perché pensi tutta a un'altra situazione a uno sviluppo per andare a fare gol e quello è un momento pericolosissimo però con dei calciatori lo dobbiamo fare con degli altri invece ci dobbiamo aspettare quello che è successo che è il momento della perdita di palla capito io non ho detto di digni ho detto di squadra soprattutto di linea difensiva perché poi la scelta era quella lì facendo giocare Zucanovic centrale facendo giocare Rudiger a destra la scelta è quella di andare poi sulla fisicità sull'integrità di forza a livello difensivo degli uno contro uno che possono proporre questi due piccoletti nel mezzo c'è Borriello che è un calciatore straordinario ce l'ha fatto vedere però ha delle qualità delle caratteristiche che ce l'hai lì lo puoi toccare perché non è quello che si fa e poi si butta laggiù nello spazio come per esempio le punte del Carpi ricordi contro il Carpi riconquistavano palla boom sempre la bandierina lui gliela giocano addosso perché ha quella qualità lì per cui mi sembrava tutto a posto da un punto di vista di scelta e poi invece non è così e se poi viene fuori una gestione di questo genere l'allenatore è segno che gli ha ancora da dire qualcosa alla squadra e può essere tirato un ballo ecco e su questo cerco di spiegarmi meglio oggi perché giustamente mi avete tirato un ballo discorso progettazione futura io se non succedono cose che riguardano soprattutto la proprietà rimango qui io sono un dipendente della società e io il contratto e io rimango qui sei contento non è un esclusivo più questo metà di questo e più un altro uno solo parisi centro suono sport buongiorno mister senta l'esplosione del caso Totti nel prepartita di Roma-Palermo lei fu fischiato dallo stadio alla lettura delle formazioni poi diciamo la situazione non è migliorata tantissimo le parole verso Totti sono state sia al miele che un po' più dure dopo l'episodio appunto tutta la settimana di Bergamo che accoglienza si aspetta domani dallo stadio olimpico che cambia per me pensi mi faccia antimorire da quello che scrive uno da quello che trovo fuori che mi dice o quello che trova la mia moglie e gli dice roba fa spesa pigli tu marito e rivai a Ponte Vecchio però siccome ci disse addirittura anche mio figlio pensi mi lasci intimorire a queste cose secondo me ci voglio altri 7-8 anni perché ci sono stato 6 anni soli e ne ho ancora un tu ma conosciuto ce ne voglio altri 7-8 guarderò di fare quello per farmi conoscere meglio Sonnino Radio Radio io volevo chiederle questo il suo predecessore Garzia diceva spessissimo lo ha ripetuto tante volte io amo i miei giocatori dichiarazioni d'amore su dichiarazioni d'amore lei invece ha un approccio possiamo dire diametralmente opposto insomma ribadisce sistematicamente che non ha sentimenti che è freddo e che non ha questo tipo di trasporto nei confronti dei suoi giocatori nella scelta della formazione mamma mia nella scelta della formazione io non ho sentimenti cioè scelgo in base a chi mi fa vincere le partite non che non se un mio calciatore ha bisogno di una cosa che posso fare non faccio la cosa se ha bisogno che posso fare la faccio nella scelta della formazione non ho padri non ho madri non ho sentimento non ho anima nella scelta della formazione capito? cioè nel mettere fuori o uno dentro o fuori lo faccio perché credo che sia giusto così o perlomeno può avere delle qualità lui può avere delle qualità lui le sue qualità sono più adatte per quello che credo in questa partita qui perché? perché voglio vincere ho solo quello io di obiettivi poi ai miei giocatori io voglio voglio bene ma vorrei anche vedere voglio bene proprio perché cerco di instaurare un contatto oltre che un rapporto proprio un contatto mi piace proprio toccarli quando vanno in campo li abbraccio qualche d'uno l'ho anche baciato per cui allora cambio in corso e le chiedo un'altra cosa no 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 se era questo che volevi dire hai fatto confusione su però comunicativamente sono due strategie opposte no? perché un allenatore va sistematicamente a dire io amo i miei giocatori sono sempre dalla loro parte li schermo li difendo da tutto sono sempre in prima linea e un altro invece li responsabilizza e io ti dico come fai in base a quello che vuoi più bene lo metti qui questo credo che lo facciano tutti gli allenatori però io lo dico lo dico poi dico anche come ho detto prima che voglio distribuire quelli che sono meriti giusti secondo me per quelli che hanno un impegno giusto e per me non 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 li voglio bene a tutti uguali è differente comunque il senso era se non ritiene voglio più bene a quelli che arrivano in orario a quelli che che si impegnano a tutti gli allenamenti a quelli che si curano i tacchetti prima di entrare in campo a quelli che stanno attenti ai dettagli che riguardano l'obiettivo della vittoria faccio questa distinzione e basta il senso della domanda per chiudere almeno la finisco solo per il dovere di cronaca era se non ritiene che questo diciamo questo di fatto muro contro muro comunque c'è tantissima durezza da una parte e dall'altra nelle componenti che in questo momento formano il Roma non sia poi in realtà documento alla Roma stessa è forse una via di mezzo in una città tanto passionale si potrebbe trovare guarda muro contro muro perché se viene fuori che lui mi telefona ti sei picchiato con Totti nel corridoio e io non ho incontrato nessun mio calciatore nel corridoio poi viene fuori tutto questo e si parla due giorni di questo e io non ho incontrato nessun calciatore e ti domando perché scrivi così mi vuoi rispondere perché probabilmente visto che c'erano tanti giocatori dell'Atalanta ognuno alle proprie fonti questo è quello che più o meno è travelato da più parti bisogna tu dica nome e cognome non tanti giocatori dell'Atalanta che vuol dire tanti giocatori dell'Atalanta se no io ti posso accusare ma infatti succede anche noi giornalisti ci prendiamo le accuse di tutti che ci facevi vicino a qui bandone ma che discorso è un bandone per curiosità un bandone la sala cinesca ad un garage io le dico che non c'ero lei è libero di crederci o no funziona così no è libero di crederci o no diciamo la verità perché quando si parla di rispetto di regole di obiettivi diciamo la verità io penso ci siano anche per voi delle regole spero che ci siano anche per voi e allora come si fa a tirar fuori una cosa che io ho messo le mani addosso a un mio calciatore io non metto le mani addosso ai miei calciatori è un'offesa bruttissima mani addosso non l'ha scritto nessuno era un muro contro muro quello che dicevo prima trova trova io mani addosso vuol dire che siete venuti alle mani non è stato scritto che siete venuti alle mani di verbio acceso io ho letto di diverbio acceso no no ma è addosso poi dentro lo spogliatoio quella lì è una cosa mia è una cosa mia quella dello spogliatoio è una cosa mia che io posso ho nella mia facoltà di manifestare un mio dissenso dissenso per quella che è per quello che è stato la gestione della partita come ti dicevo prima ecco però io mi sono dovuto difendere sono dovuto andare a fare un comunicato ci sarebbe stato avrebbe ci sarebbe stato un contatto c'è stato un contatto fisico lì tutti i spalletti nel post partita ci sarebbe e un contatto fisico non è menarsi insomma faccia a faccia no io non sono il sindacalista io so palleggiare un giocatore questo ti risponda a loro perché non sono bravo un contatto fisico sappiamo tutti che cosa vuol dire però non c'è stato nessun contatto io ho parlato dentro lo spogliatoio di quella che è stata la gestione della partita era mareggiato per il risultato perché dopo il 2 a 0 mi aspettavo di stravincerla quella gara lì e poi meno male siamo riusciti a pareggiarla e lì ci ha messo del suo Francesco con quel gol lì come gli altri calciatori che hanno ribaltato da ultimo la partita vincendo quei contrasti facendo quella lotta lì ma non offendo nessuno a dire in questa maniera qui perché vedo che qualcuno si risente non offendo nessuno è un'analisi della partita corretta da un punto di vista di allenatore Rosso Mando delle Radio Stereo Salve mister ecco immagino che anche nel post partita Dzeko era un po' amareggiato anche lui sicuramente e le volevo chiedere non so se lei magari si aspettava una reazione diversa dal punto di vista soprattutto mentale da parte del ragazzo perché può capitare un attaccante sbagli gol è capitato anche gli attaccanti più forti però forse manca un po' quella reazione dal punto di vista emotivo che un attaccante importante come lui dovrebbe avere guarda bisogna essere sintetici anche su di lui Dzeko è Dzeko da qui in avanti dipende da lui non si fanno più discorsi mi fa vedere ed essere quel centro avanti quella punta che che è che si è ritagliato come attenzione a livello calcistico a livello di team bene non me lo fa vedere io guardo quello che fa e uso quello che fa da qui in avanti bisogna che lui ci dica quale giocatore è che forza ha dipende da lui sono lì a guardare rifaccio quello che non ha sentimento per niente fa vedere le sue qualità lo uso non fa vedere le sue qualità non lo uso qui bisogna fare risultati abbiamo bisogno di uno che ha quelle caratteristiche e quella forza e quelle caratteristiche e quella fisicità e quella forza lì per cui da qui in avanti ce lo deve far vedere sono lì a guardare facciamo l'ultima di Carlo Retesport buongiorno io volevo rimanere su Giacomo ma più per un discorso tattico perché si vede ultimamente che il ragazzo sottoporta non è sereno rivedendo invece determinate partite magari anche con il Manchester City sembra quasi che lui si trova meglio ad avere un partner d'attacco a fare quasi la seconda punta nonostante lui abbia anche fisicamente l'idea del nove è possibile magari valutarlo anche sicuramente nel futuro quest'anno è chiamato a fare il nove in un'altra veste in un altro modo di stare in campo questa è un'osservazione tecnico-tattica che è giusta da parte tua nel senso che si guarda tutti i particolari e tutti i dettagli e può dipendere da questo ma io ti dico che dei dubbi ce l'ho nel senso che un calciatore come lui che è importante come lui che debba dipendere da mettergli un altro differente vicino per evidenziare le sue qualità è una cosa che non posso pensare cioè io non devo fare la formazione prendendo un reparto tutto insieme o se no nessuno una formazione mettendone insieme negli undici calciatori che funzioni da un punto di vista di forza individuale addizionata di forza individuale guarda secondo me poi nella partita di domenica qualche cosa se la vai a vedere bene ce lo trovi da un punto di vista tattico perché Salah faceva più l'attaccante Salah faceva più l'attaccante perché noi lo volevamo far giocare con il centrale e non con il terzino che è Drame che ha più velocità e loro hanno tenuto tutta la partita Drame più stretto proprio perché Salah faceva la punta più vicina a Dzeko spostato un pochettino alla sinistra del fianco di Dzeko però era più dentro il campo non era aperto a fare l'esterno perché lo volevamo portare via da quella marcatura lì e lo volevamo far giocare contro il centrale che tutte e due centrali hanno caratteristiche diverse sono molto più lenti loro di questo hanno cercato di ovviare portando Drame se tu la riguardi a fare quasi il centrale poi l'hanno lasciata andare quando quando perdevano ma soprattutto nella prima mezz'ora noi si entra a destra con Rudiger ma spesso con Florenzi che da centrocampista andava ad aprire poi si chiama partire in bandierina partiva in bandierina più spesso senza stare in mezzo proprio perché Drame era centrale e dietro Gomez non avevano nessuno e fra Gomez e Drame ci abbiamo giocato diversi palloni e in quel caso lì rivengo poi alla tua domanda Dzeko doveva essere messo nelle condizioni perché aveva Salah un pochettino più vicino doveva essere messo nelle condizioni di fare di fare bene io non voglio pensare che Dzeko abbia bisogno di un partner per quello che che è l'attenzione che si è stata ritagliata io penso come ho detto a lui che è un po' è il difetto che sia a noi italiani in generale invece di assorbire quelli che vengono e cercare di prendere dalle qualità che hanno gli altri cerchiamo di dargli le nostre a loro e lui ha fatto così invece di portarci un po' del suo calcio fisico fatto di contrasti inglese palla per aria botte schianti la palla rimane lì perché la voglio io provate a pigliarla e ti amputo la gamba lui ma fallo non fallo casco non casco se 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 sbagliato noi a dargli questa questa idea qui e lui ha sbagliato a prenderla se se così fosse ecco ritorno lì Dzeko da qui in avanti ci deve far vedere che è Dzeko perché non c'è più tempo grazie grazie